Mi levi una curiosità, ma è questa qui l'alto di cui parlano alla tv? Sì. Che t'avevo detto? Iva. E mi levi una curiosità, ma c'è anche la radio collettore CDMP3. Iva. Sì. E mi levi una curiosità, ma è vero che i consumi sono bassi? Iva, non esagerare. Sì. Senta, già che c'è. Mi leva l'iva. Sì. L'iva. Per noi giapponesi, l'ospite è sacro. Sì. Suzuki. Eh, sì. Sì.